Prendi carta e penna, mettiti comodo, chiuditi in una stanza e prova a risolvere da solo questo esercizio. Se per caso ti blocchi non preoccuparti, ti darò tre suggerimenti prima di farti vedere la soluzione completa. Dopo che li hai visti, prova comunque da solo a finire di risolverlo. Se non ci riesci o getti la spugna, dai un'occhiata alla seconda parte del video. E ricordati di iscriverti al canale. Bestia! Un'azienda industriale possiede tre stabilimenti, A, B e C. Nello stabilimento A si producono metà dei pezzi e di questi il 10% sono difettosi. Qualcuno batte la fiacca di dentro. Nello stabilimento B si produce un terzo dei pezzi e il 7% di questi sono difettosi. Nello stabilimento C si producono i pezzi rimanenti e il 5% sono difettosi. Sapendo che un pezzo è difettoso, con quale probabilità esso viene dallo stabilimento A? Ok, prova a fare da solo. Tra poco inizio a dare suggerimenti, quindi metti in pausa il video se ancora non hai fatto niente. Pronti? 3, 2, 1. Primo suggerimento. Questo è uno di quei problemi in cui ti conviene fare un diagramma ad albero per avere un'idea della situazione. Secondo suggerimento. È necessario calcolare la probabilità che un pezzo sia difettoso per ognuno dei tre stabilimenti. Quindi qua è la probabilità di avere un difettoso nell'A, nel B, nel C. Infine, per risolvere l'esercizio qua ti serve il teorema di Bias. Ok, e adesso vediamo la soluzione dell'esercizio. Questo è proprio un classico esempio di teorema di Bias fatto e finito. Da cosa lo riconosco che deve usare il teorema di Bias? C'è una frase fondamentale qua dentro. Mi dice sapendo che. Perché noi siamo già sicuri che il pezzo sia difettoso. Non tutti i pezzi sono difettosi, ma noi sappiamo che ce n'abbiamo uno scassato in mano. Ci viene chiesto a questo punto di risalire la probabilità che venga dallo stabilimento A. Cioè, scritto in matematichese, qual è la probabilità che venga dallo stabilimento A, chiamano PDA, dato che, cioè sapendo che, segnato come una sbarra verticale, è difettoso. Quindi lo sappiamo già che è difettoso. Come si fa questa roba qui? Se dobbiamo usare il teorema di Bias, di sicuro conviene che utilizziamo un bel diagramma d'albero. In che senso? All'inizio ne abbiamo in mano questo pezzo e ci sono tre possibili diramazioni. Cioè, da che stabilimento può venire questo? Potrebbe venire dallo stabilimento A, potrebbe venire dallo stabilimento B o dallo stabilimento C. Non lo sappiamo a prescindere. Qual è la probabilità che venga da A, da B o da C? Attenti che qua non c'entra ancora che sia rotto o meno, è difettoso o meno. Qua è solo dallo stabilimento. Noi sappiamo che metà dei pezzi viene dallo stabilimento A. Cosa vuol dire? Che il 50% dei pezzi, cioè un pezzo su due, la metà, vengono dallo stabilimento A. Da B invece sappiamo che viene un terzo dei pezzi, cioè uno su tre viene da B. Quindi la probabilità che un pezzo venga da B, di nuovo a prescindere che sia scassato meno, è un terzo. Ci rimane C, che sono i rimanenti. Cosa vuol dire i rimanenti? Ci mancano tutti quelli che non sono di A e di B. Come faccio a sapere quanti sono? Devo fare uno, che è il totale, il 100% dei pezzi, meno l'un mezzo, che sono quelli di A, meno un terzo, che sono quelli che vengono da B, facendo il conto, se fate un attimo la MCM, qua vi esce un sesto. Quindi un pezzo su sei, che sono i rimanenti, vengono da C. Una volta che abbiamo individuato questi terami, però, c'è un'ulteriore diramazione, perché se andiamo a vedere i pezzi di A, i pezzi di A sono per il 10% difettosi e quindi per il 90% non difettosi. Per il 10%, 10%, fate conto che conviene scriverlo come una frazione, cioè 1 fratto 10. Questi sono difettosi, mentre abbiamo una probabilità di 9 su 10 che non sia difettosi, lo chiamo ND non difettoso. Stessa cosa possiamo fare in B, cioè qua c'è una diramazione, quanti sono difettosi, quanti no. Il 7% sono difettosi, 7% scritto in forma di frazione è 7 centesimi difettosi. Il restante, cioè il 93%, 93 centesimi, non sono difettosi. Infine ci manca C, in C il 5% sono difettosi, quindi 5 su 100, che poi, volendo possiamo semplificare, però scriviamolo così, sono difettosi. Il 95% invece non sono difettosi. Cosa me ne sto facendo di questo diagrammone qua gigante? Io adesso voglio andare a vedere tutti i rami in cui finisce che c'è un difettoso. Quali sono? Sono questo, meglio questi due rami in sequenza, poi abbiamo B con questo e C con questo. Quando vi muovete in un diagramma ad albero, ogni volta che fate un salto in avanti di un ramo, dovete fare una moltiplicazione tra le probabilità. Cosa vuol dire? L'esito finale che ho nel primo rosso qua è il prodotto delle probabilità che ho incontrato per strada, quindi ho un mezzo per un decimo. L'esito nel ramo rosso, quello di B invece, sarà un terzo per 7 centesimi. Poi i prodotti li facciamo, per adesso scriviamo soltanto le formule. Poi qua in fondo invece va il prodotto di un sesto per 5 centesimi. E uno mi dice, eh Matteo ma gli altri rami che non hai considerato non ce ne frega niente degli altri. Gli altri intendo dire questo qui, questo qui, questo qui. Visto che tanto noi sappiamo che il pezzo è difettoso, di quelli non difettosi ce ne frega niente. Li piantateli così. Ok, facciamo un attimo i calcoli. Il primo ci verrà un ventesimo. Questo qua sotto ci viene 7 tre centesimi. Questo qua sotto qua potete semplificare il 5 con il 100. Vi viene un ventesimo e quindi vi esce 1 fratto 120. Cosa ce ne facciamo di queste probabilità? Queste, adesso scriviamo anche la parola, sono la prima è la probabilità di avere un pezzo difettoso, quindi che viene da A. La seconda è la probabilità di avere un difettoso che viene da B. E la terza è la probabilità di avere un difettoso che viene da C. Ok, qui attenzione che c'è l'unica secondo me parte un pelo delicata, cioè quello che ci ha chiesto l'esercizio non è la prima cosa. È diverso dire che un ventesimo è la probabilità che il pezzo venga da A e che sia difettoso rispetto a dire so che è difettoso e devo capire se viene da A. Sono due robe diverse. Come facciamo a fare il conto? Per questa roba si usa il teorema di Bayes. Il teorema di Bayes fondamentalmente ci dice vai a prendere il ramo che identifica i due casi che ti interessano. Cosa significa? Noi vogliamo un stabilimento A è difettoso, quindi vado a prendere la probabilità del primo e poi qua fate fratto la somma di tutte le probabilità in cui avviene il difettoso. Cosa significa? La somma di questa, ma anche di questa e di questa, che sono tutte quelle in cui si presenta difettoso, perché il problema è che voi ci avete in mano un pezzo e non sapete se viene da A, da B o da C, per cui al denominatore contate tutti i casi possibili che sono appunto queste tre probabilità. Quindi qua sotto ci metteremo, non so scrivere la parola se non finiamo più, è un ventesimo più sette tre centesimi più uno fratto centoventi. Al numeratore quindi questa roba la togliamo, mettiamo uno fratto venti. Poi sta roba non è una meraviglia per gli occhi, però ci si può sistemare e soprattutto lo potete far fare alla calcolatrice. Se fate due conti vi esce circa 0,62 che corrisponde a una probabilità del 62%. Fun fact sulla maturità, se copiate durante la seconda prova, si aprono le porte dell'inferno sotto di voi e viene Belzebu a prendervi.